Da qualche giorno alla ASL di Teramo è in funzione un nuovissimo servizio di interpretariato telefonico multilingue attivo 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno. L'Help Voice consentirà a tutto il personale sanitario, semplicemente componendo un numero verde, di avere a disposizione nel tempo massimo di due minuti un interprete che simultaneamente in viva voce tradurrà la conversazione con il paziente straniero. Un servizio utile soprattutto nei pronto soccorso dove nella concitazione dell'urgenza è indispensabile la possibilità di effettuare un triage multilingue che garantisca diagnosi e cure appropriate. Sono circa 25.000 gli stranieri serviti dai pronto soccorso dell'ASL di Teramo che conta 900 posti letto e circa 135.000 passaggi all'anno nei pronto soccorso, senza contare l'affluenza dei turisti stranieri che nella sola provincia di Teramo è pari a circa 70.000 presenze l'anno. Per il direttore generale dell'ASL di Teramo Roberto Fagnano il servizio è utile per mettere in condizione gli operatori di dialogare con i pazienti stranieri e garantire un passo in avanti verso una nuova cultura dei servizi alla persona che consenta di produrre un alto grado di soddisfazione dell'utenza nei confronti dell'offerta sanitaria a costi decisamente contenuti.